Buongiorno Fedez, mi rivolgo a te e agli artisti che come te in queste ore state lamentando le attuali restrizioni per la cultura e lo spettacolo, mentre invece la politica, gli incontri della politica avvengono con piazze e gremite di gente. Non va bene, infatti sono 4-5 giorni che lo sto dicendo, in tanti punti stampa, dobbiamo ripartire tutti insieme, la filiera della cultura, dello spettacolo, ma anche degli eventi sportivi ha tanto sofferto, deve poter ripartire e non va bene portare la capienza all'80%, dobbiamo portarla al 100%, dobbiamo ripartire forti, dobbiamo ripartire tutti insieme. Questo è ciò in cui crediamo, questo è ciò che siamo. Grazie a tutti.